Quindi se ne ne andiamo a rarmi, non è la mia domanda, ma invece c'è il momento, non tanto il controllo e il passaggio, ma come si dice, io c'è la prima volta che c'è il problema di e-mail di alla città nella scuola. Sì, funziona molto, questo volevo dire una domanda di voi, rispetto alla questione della democrazia e dell'initazione delle scuole, io ho anche la vero, soprattutto di vista, uno che è quello della partecipazione alla scuola massiva e l'altro è quello della presentanza. Per quanto riguarda la partecipazione, a partecipazione delle scuole ci sono tutta una serie di programmi collegiali, di partizioni stessi, che in un certo senso sono quelli che mi sono, lo studente, in contatto con tutte le decisioni che devono realizzare la scuola. Questo però, cioè, avviene nella domanda che non è da parte, nel senso che i stessi condizioni di mutuo, riconoscendo il conto tra i studenti, i studenti e con qualsiasi studenti, sono un po' più difficili, si decide rispetto al bilancio, rispetto a quello che viene nella scuola, però poi ci sono realmente dei motivi di discussione, rispetto a come le scuole potrebbero migliorare, diciamo, a come lo studente potrebbe realmente fare attivare la cammella di una scuola oltre. Perchè poi, secondo me, anche questo è il problema, ma anche noi, la rivoluzione dei studenti, che è quella degli attenzioni, cioè la possibilità di incontrare l'interno delle scuole e dei studenti, e sono in realtà la difficoltà che ci fa, perché quella noia, quella partita rispetto a tutto quanto avviene all'interno della scuola, se esiste a me, che poi sono sicuri di partecipazione individuale, di partecipazione dell'interno della scuola, perché si vengono considerate sempre parte di politica o di tutto ciò che anche si guarda, perché io lì vado per stare 5 ore dentro sul banco, su una media, fare contusi, interrogazioni, e finisce lì. Mentre questi due studi, che sono appunto i giorni della democrazia e della partecipazione dell'interno della scuola, sono i giorni che hanno detto che la vogliono dare, e sono i giorni che hanno detto che noi siamo assolutamente a chiederti per stimolare queste discussioni, per sviluppare quella delle scuole che potrebbero migliorare. Noi a questo senso proponiamo un'altra popolazione, che è un incontro tra docenti e studenti per quanto riguarda la didattica. della didattica, oggi, è quella fondata con i docenti parla di un'incidenza assusta, che non è una metodologia che si sbagliava, ma è una metodologia che si dipende anche da tanti altri, che magari hanno detto che l'interno europeo devono adottare. sbagliare i dati di un'innovazione, che poi le parti come il bello, le metodologia che si sbagliava, che non ci interessa. e non serve, adesso la prima cosa, è una cosa che si è scoperta, provare il silenzio per quanto riguarda le decisioni più importanti. Noi quest'anno ne abbiamo quasi due, uno era il terreno che mi interessava i bisogni di mani, cioè l'edizia, l'aria, la lavorazione e un altro che ci poneva delle questioni un po' più importanti, quali questi esistono, l'autonomia, l'autonomia, l'autonomia eccetera. E tra l'altro era anche la questione che ci stava, cioè stiamo a scoprire da questo passaggio, nel senso che noi tutti assolutamente la scuola e i miei amici di amparare un po' del sistema, del sapere, del sapere, del sapere, delle scuole di reale, delle scuole di ricerche e delle scuole di ricerche più stentici e professionale. E questa cosa, anche nel senso del risultato dei materiali didattici, i bisogni che vengono utilizzati, i bisogni che sono professionale, non sono stati disegnati, nel senso che in un modo in cui ci accogliamo come dicevo, che non so non so se questo, in un istituto tecnico e in un istituto professionale, certo, in un'altra scuola di ricordi, nel senso che l'insegnamento, ma soprattutto di un istituto, ci per force riguarda quelli che sono stati tutti i suoi disegni, perché dovrebbero essere, diciamo, le scuole, tutte le scuole di reciclia, via al mondo dell'autodio e quindi attraverso degli stage o assoluti di attività, al di là di questo momento delle decisioni. E noi possiamo anche ammettere che l'assistenza degli stage in quanto stesso sono un senso di giustamento, non so, che ha la capacità non solo a quanto sono un, diciamo, un costo per gli studenti che in questo senso ha pagato queste cose. E non c'è alcun dito che c'è alcun dito che c'è alcun dito che c'è alcun dito di questi studenti. Poi diciamo che questo mi interessa una più altra gente. Grazie.